bella ragazzi prima del video mi raccomando non dimenticate di fare un salto nel primo link in descrizione istangaming dove troverete un sacco di ricariche ad esempio a prezzi scontati per la vostra ps4 giochi ricariche bundle di fortnite primo link in descrizione istangaming bella tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video sono xyodea e ragazzi oggi voglio parlarvi di un sacco di novità riguardante i prossimi giorni di fortnite in collaborazione con i nostri amici ragazzi di fortnite italy gruppo telegram dove troverete un sacco di notizie interessanti oggi ragazzi parliamo appunto come vi stavo anticipando se funzionassero lo slideshow eccolo qua del nuovo aggiornamento sull'evento marshmallow abbiamo un sacco di cose interessantissime voglio dirvele tutte ragazzi perché meritano la vostra attenzione parleremo anche della nuova skin scoperta nei file di gioco che non vi avevo ancora mostrato è ovviamente un sacco di leaks interessantissimi per rimanere sempre aggiornati in tempo reale con tutti il dietro le quinte di fortnite ma prima vi ricordo ragazzi un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale e mi raccomando attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento nessuna news di fortnite ma prima ragazzi è la domanda ve la devo fare ragazzi la domanda ci tengo tantissimo che mi rispondiate qua sotto nei commenti ed è una domanda molto molto semplice ragazzi ma come ti sembra la nuova granata congelante dimmi un po ma sinceramente ragazzi non ho mai trovato nessuno che me l'abbia tirata addosso innanzitutto non l'ho mai tirata addosso a nessuno voglio sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti su come vi sembra se la usate se non la usate insomma ragazzi tutto quello che vi viene in mente ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere ragazzi la skin segreta quella che questo pomeriggio con il raggiungimento delle quattro sfide su 7 sbloccheremo ovviamente questa immagine l'avete già vista tutti voglio farvi vedere anche il secondo stadio eccolo qua davvero molto molto interessante si parla ovviamente del re del fuoco terza fase come vedete cambia leggermente comincia a mostrarsi un po di lava e arriviamo allo stadio finale dove la lava è praticamente molto più evidente la skin comincia davvero a fare brutto mi piace veramente tantissimo questa fase e ragazzi tenete bene a mente questa lava perché più avanti nel video di oggi ne parleremo una roba molto molto interessante ma andiamo avanti ragazzi ovviamente e parliamo appunto di quello che vi ho appena detto queste ragazzi sono righe di codice incredibili ragazzi incredibili voglio farvi vedere una cosa questo cerchio rosso sta ad indicare che stiamo parlando di season 8 come vedete ragazzi blueprint s8 lead up s8 sta come vi anticipavo un po di tempo fa per season 8 quindi ragazzi si parla di season 8 e se vi mando a questo cerchio che vi ho appena è cerchiato si parla ragazzi del dell'earthquake in poche parole queste sono le righe di codice relative al terremoto anzi ai terremoti che nella season 8 sconvolgeranno la mappa di fortnite se ne contano ragazzi 50 come vedete number of events quindi numero di eventi numero di volte che succede questo evento 50 terremoti probabilmente di potenza diversa che ragazzi sconvolgeranno la mappa nella season numero 8 ovviamente io giorno per giorno cerco di tenervi aggiornati su tutto quello che succederà questo è quello che sapevo fin oggi ma andiamo avanti ragazzi e parliamo un secondo qua un'altra nota molto interessante sull'evento che si chiama si chiama festius se non ricordo male l'evento ufficiale di marshmallow quindi sabato 2 febbraio alle ore 20 per noi che siamo ovviamente in italia l'evento è alle 14 in america noi alle 20 mica che siete lì alle 14 fermi a parchi pacifiche che cazzo non c'è niente no alle 20 ragazzi queste sono intanto le fasi di preparazione dello stage proprio a parco pacifico come vedete ragazzi una vista dall'alto prima abbiamo visto un'altra visuale davvero molto figo il palco che gli stanno creando un evento che a me dispiace in realtà non essere in live per vederlo perché sarà davvero molto molto interessante ecco questa è un'altra immagine che vedrà appunto il coinvolgimento di tutti i giocatori so che ci saranno 60 secondi di invulnerabilità per tutti i presenti al momento dell'evento l'ho letto non vi faccio vedere i codici l'ho letto da qualche parte era giusto una riga di codice neanche da perderci tempo quindi se ci siete ragazzi sappiate che avrete l'invincibilità tra l'altro un fatto molto curioso è anche che lo stesso marshmallow nel suo sito ufficiale inserisce la data del tour pleasant park il 2 febbraio poi sotto va in india due volte voglia mangiare il couscous comunque ragazzi molto interessante ma voglio parlarvi di una cosa invece importantissime qua mi rivolgo a tutti voi proprio a te che avevi in mente di portare in live l'evento non fatelo ragazzi non fatelo questo è un tweet della casa produttrice della canzone che verrà mandata in onda durante l'evento please do not record or stream the upcoming event la canzone marshmallow alone che è proprio una ufficiale sua è sotto copyright raga vi pigliate lo strike ve lo dico ve lo dico ci saranno i youtuber giganti che avranno la licenza provvisoria per portare in live streaming l'evento ma se siete piccoli pure io raga è sono incluso pure io non portatelo raga non fate l'evento in live non fate sentire la canzone in live rischiate uno strike sul canale non è piacevole ve lo posso garantire mi raccomando attenzione a questa cosa importantissima andiamo avanti ragazzi invece parliamo della skin segreta che vi avevo di cui vi avevo parlato e poco fa ragazzi la skin dell'orsetto il cud leader si chiama c'è un nome abbastanza particolare ragazzi adesso non mi ricordo con precisione come cavolo si chiama lui lasciamo perdere intanto gli effetti del green che sistemeremo più avanti ragazzi il cuddle leader qualcosa comunque una skin che arriverà molto probabilmente con l'evento davvero interessantissima ragazzi come come orsetto oramai lo sappiamo epic games ha una serie di stili per l'orsetto rosa l'originale poi trasformato anche come per l'evento dell'america per halloween e adesso lo avremo anche disponibile per l'evento di marshmallow quindi ragazzi dovremmo stare a vedere quando arriverà disponibile ovviamente per tutti questo orsacchiotto voglio ragazzi andare avanti e parlarvi anche delle sfide che arriveranno questo pomeriggio della settimana numero 9 ovviamente troverete sul canale un paio di video che vi indicheranno il modo più veloce per completare le sfide più ostili come vedete abbiamo tre stadi tre fasi per la prima sfida ballare su un sandial non so che cavolo sia ballare sul su una grande tazza di caffè e ultima fase ballare su una testa di cane di metallo gigante staremo a vedere ragazzi anch'io devo un attimo studiarme le ho viste da pochi minuti ve le volevo proporre abbiamo distruggi dieci palloni d'oro e poi ragazzi lo vedremo vi farò il video della posizione corretta di tutti i palloni eliminazioni con fucili a pompa abbiamo da killare tre nemici a crocevia del ciarpame o a riterò corso commercio non mi ricordo cos'è ritirò in inglese a un'altra missione con le fasi quindi atterrare a riterò atterrare a rapide ghiacciate atterrare a montagnole maledette atterrare a shifty shaft condotti confusi non me lo ricordo e ultima fase atterrare a dusty devote che dovrebbe essere i magazzini in poche parole fate queste ragazzi abbiamo il time trial con gli aeroplani quindi dei percorsi da fare con gli aeroplani e per ultimo abbiamo da fare l'utilizzo del pupazzo di neve in match differenti beh ragazzi io tutte le notizie anche oggi ve le ho dette spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo in live e e sbloccheremo la skin ciao 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 ciao